Da Merminaro Herrar, bentrovati. Quest'oggi parliamo di un argomento ignorato dalla storiografia e soprattutto bistrattato, almeno fino ai tempi più recenti, cioè la questione irrisolta della Ciamuria, dei rapporti paradossali tra la Grecia e l'Albania nel XX secolo e soprattutto dei Ciam, gruppo etnico di origine albanese e di fede musulmana che visse, e sottolineo visse, in Epiro, nel nord-ovest dell'attuale Grecia, fino al 1944. Originaria della regione della Ciamuria, questa popolazione, al termine delle guerre balcaniche nel 1913, fu staccata dal territorio albanese per incapacità delle grandi potenze europee di accordarsi su cosa fare, e fu inglobata e poi annessa dentro i confini greci. Con gli anni il governo ellenico attuò una politica di separazione e una polizia etnica in tutta quanta la Ciamuria, la cui popolazione all'epoca era di circa l'85% di etnia albanese. Gli albanesi ortodossi furono costretti a essere assimilati, mentre quelli musulmani all'isolamento e poi alla deportazione. Da qui iniziò inesorabilmente una diaspora di esuli ciamurioti al di fuori di questa regione. L'obiettivo di questo video, attenzione, non è accusare né l'una né l'altra parte, greca o albanese che sia, anche perché, come ben sapete, personalmente io amo entrambi i paesi e ho amici da entrambe le parti, quanto piuttosto quella di chiarire molto meglio le vicende di una storia oscura e corrotta, un racconto di vendette e rappresaglie da entrambe le parti. L'argomento richiederebbe 10 episodi per essere spiegato nel dettaglio, ma oggi voglio soltanto offrirvi una visione generale. Vediamo meglio di che si tratta. Il punto di partenza della nostra storia è il 1923, anno in cui la Grecia si trovò di fronte, per la prima volta, ad elaborare una politica sistematica nei confronti della minoranza etnica albanese di religione musulmana in Epiro, i Cham. Secondo il censimento del 1925, le stime di albanesi musulmani che risiedevano nella regione della Chamoria ammontavano a oltre 20.000 abitanti. Le radici della questione etnica, che sarebbe di lì a poco scoppiata, affondavano nell'accordo del cosiddetto scambio di popolazioni, avvenuto tra Grecia e Turchia a seguito della dissoluzione dell'impero ottomano dopo la Grande Guerra. Tra questi fatti di particolare rilievo ci fu tutta una sequenza di genocidi ai danni di profughi greci sulle coste turche, la cosiddetta catastrofe dell'Asia minore del 1922, a seguito della quale la geopolitica della penisola ellenica fu totalmente ridimensionata. Ad ogni modo, nel gennaio del 1923, lo scambio di popolazioni musulmane che la Grecia fece in cambio di quelle cristiane ortodosse che risiedevano nei confini turchi, non faceva alcun riferimento esplicito ai musulmani albanesi di Epiro. Nelle negoziazioni a Losanna, il rappresentante greco Dimitrios Kaklamanos dichiarò, sebbene condividano con i turchi la stessa religione, gli albanesi di Epiro sono di un'etnia diversa. Pertanto la Grecia non procederà allo scambio. Le tensioni già bollenti si inaspirano poi ancor di più nell'estate del 1923, con la crisi diplomatica di Corfu, durante la quale il generale italiano Enrico Tellini, inviato da Mussolini per limare la disputa territoriale tra albanesi e greci e dividere il vero confine etnico, fu assassinato nei pressi della città ellenica di Ioannina. Secondo la stampa italiana albanese, si trattò di un attacco greco volto a destabilizzare i tentativi del governo italiano a favore delle minoranze albanesi. Con l'infiammarsi della disputa, la questione fu così portata davanti al Consiglio delle Società delle Nazioni, l'anno successivo, nel 1924. Durante la questione regnò il caos. Inquieti per l'incertezza del futuro e del destino che lo Stato greco aveva in serbo per le loro proprietà, i Ciam vedevano nella Turchia una sorte migliore, un'opzione più accettabile. Alla fine però furono gli sviluppi politici interni in Grecia a portare la soluzione finale al dibattito tra nazioni. Il 25 giugno 1925 il generale Theodoros Pangalos rovesciò il governo in carica con un violento colpo di stato militare, assumendo in solitaria il comando del paese. Pangalos si trovò ad affrontare grossi problemi territoriali. L'arrivo di circa un milione e mezzo di profughi ellenici dall'Asia minore nel 1922 e l'obbligo assunto dalla Grecia di concedere loro 5 milioni di metri quadrati di terreno rese necessario attuare una radicale riorganizzazione del territorio ellenico, tramite la quale furono espropriate non solo le grandi proprietà prima in mano ai latifondisti albanesi de Piro, ma anche quelle di medie dimensioni e di molti Ciam locali. Nell'articolo 3 di uno dei quattro trattati stipulati tra Grecia e Albania si affermava, in caso di esproprio obbligatorio da parte di uno dei due stati, i cittadini dell'altra nazione non saranno soggetti a un programma di risarcimento. Una posizione fin troppo chiara. Il fatto era che il valore economico dei vasti terreni di milioni di chilometri quadrati espropriati in Ciamuria era troppo elevato per far sì che lo stato greco potesse accettarne la restituzione ai legittimi proprietari. Due anni dopo, nel 1927, ancora una volta davanti alla Società delle Nazioni, il delegato albanese Midat Frascheri, facendo le veci del governo albanese e riferendosi all'etnia Ciam, accusò alla Grecia di applicare misure restrittive e pressioni varie contro di essa, come ad esempio terrorizzando la popolazione con l'uso della forza, oppure attuando deportazioni o vietando l'uso dell'albanese nelle scuole e anche espropriando i campi coltivabili dei contadini. A suo dire, la scelta di emigrare adottata dai Ciam non era stata altro che una conseguenza naturale di tutti questi soprusi. Ma, come già in precedenza, il Consiglio della Società delle Nazioni decise di non decidere. La questione era già stata discussa e risolta in passato. Dal punto di vista dei membri della società non aveva senso riaprirla per rinfuocare nuove tensioni. Il tutto si trascinò dolorosamente fino agli anni 30, quando, se da una parte con il governo Venizelos ci furono degli sforzi significativi da parte ellenica di appiamare la questione dei risarcimenti, molti dei quali, stando all'ambasciata di Tirana, soddisfecero parte delle richieste degli albanesi. Dall'altra, i già deboli equilibri politici tra i due paesi furono definitivamente spezzati con l'arrivo del regime militare di Ioannis Metaxas tra il 1936 e il 1940. Con la presa di potere autoritaria e nazionalistica di Metaxas, fedele al concetto di megalidea, cioè di annettere tutti i territori limitrofi rivendicati dal governo ellenico, i Cham, proprio come gli slavi di Macedonia, furono subito inquadrati come potenziali nemici interni, finendo così nelle mire repressive e intimidatorie di quello che fu chiamato il regime del 4 agosto. Tra i metodi utilizzati dalle forze armate ci furono arresti di massa, imprigionamenti, violenze generali e il divieto di utilizzare libri e quotidiani in lingua albanese, come anche quello di parlare in pubblico qualsiasi lingua che non fosse il greco. La situazione trovò però una svolta con l'incremento delle attività italiane in Chamuria, sul finire degli anni 30. La politica italiana sotto il regime di Mussolini si distinse fin dall'inizio nel tentativo di favorire la diffusione del nazionalismo all'interno dei confini albanesi, oltre che di redentismo, con cui far fiorire l'idea di un territorio de facto albanese, ma non ancora liberato e inglobato nel progetto politico della Grande Albania, come nel caso per l'appunto del Kosovo e della Chamuria. Questo portò come conseguenza da un lato a un diffuso sentimento di insicurezza tra la popolazione greca, in particolare quella epirota, e dall'altro a un aumento di sospetto generale verso tutte quelle popolazioni di lingua albanese che vivevano al confine. In aggiunta a ciò, l'influenza dei leader locali albanesi sulla popolazione con le loro aspettative di unificazione di una grande Albania, la terra materna di tutti gli albanesi, raggiunse il suo zenith in concomitanza con l'inizio dell'occupazione italiana nell'aprile 1939. L'invasione dell'Albania fu l'occasione perfetta per il regime di Mussolini per provocare e fomentare quel sentimento di rivincita nazionalista contro gli ellenici, un atteggiamento che certamente sarebbe andato a vantaggio prima di tutto degli italiani, visto e considerato anche il fatto che Metaxas non si mostrasse affatto cordiale nei confronti delle pretese espansionistiche di Mussolini. Nel tentativo di fabbricarsi un casus belli con cui giustificare l'invasione della penisola ellenica, l'Italia fece leva, tra le tante altre cose, anche sull'uccisione nel 1940 di un noto combattente nazionalista albanese, Daut Ocha, l'esempio perfetto con cui mobilitare la popolazione a una guerra contro i greci. A partire dalla campagna italiana in Grecia, tra l'ottobre del 1940 e l'aprile del 1941, i Ciam si trovarono di fronte al baratro della storia, una storia tanto controversa quanto tragica. Collaborando fin da subito con gli invasori nell'ottobre del 1940, nella speranza dell'indipendenza, i Ciam agirono da guide esperte e truppe di sabotatori per conto dell'intelligence italiana, prendendo parte in importanti azioni di guerriglia. Con il contrattacco greco nel novembre del 1940, in Ciamuria, che già vessava in un'anarchia totale con albanesi, greci e italiani che perpetravano violenze senza distinzione nei confronti dei civili, la situazione precipitò ulteriormente. L'esercito ellenico riconquistò i territori prima persi nella regione e iniziò la sua avanzata verso nord, all'interno dell'Albania. A quel punto i greci, che erano fuggiti di fronte dall'avanzata italiana, fecero ritorno nuovamente ai loro villaggi, ma con l'amarezza trovarono le loro case in uno stato pietoso, saccheggiate e rase al suolo. Fu allora che, istigati anche dal gran numero di familiari uccisi, i contadini ellenici decisero di vendicarsi per le violenze subite. Molti albanesi furono così arrestati dalle autorità e chiunque fosse sospettato anche solo di un minimo atto di collaborazione con gli italiani fu condannato seduta stante. La situazione, già caotica, prese un'altra piega con l'arrivo, stavolta, delle truppe tedesche nell'aprile del 1941, nel quadro dell'operazione Marita. Impreparata a sostenere l'onda di unità corazzate tedesche, la Grecia lasciò campo libero nella regione al ritorno degli italiani e del loro seguito di albanesi collaborazionisti. Cavalcando l'onda favorevole e issando la bandiera albanese sugli edifici pubblici delle principali città ciamuriote, come Egumenizza e Filiates, i ciam militanti si affrettarono nel giugno del 1942 a riorganizzare l'amministrazione della regione istituendo la cosiddetta Keshilla, un consiglio politico a conduzione albanese allo scopo di sostituire l'amministrazione ellenica e di velocizzare l'annessione della regione in quel grande stato albanese che era stato progettato in ottica di controllo dei Balcani, dal Montenegro al Kosovo, fino al nord della Grecia, unificando così tutti i parlanti di lingua albanese. Con il sostegno degli italiani e durante l'occupazione delle forze dell'asse, i musulmani albanesi acquisirono gradualmente una maggiore libertà di movimento nelle città e nelle campagne della Ciamuria. Inoltre fu loro garantito un regime di impunità per tutti gli attacchi condotti nei confronti dei greci d'Epiro, che si trovavano ancora nell'area. Bisogna specificarlo, molti Ciam non presero parte a queste azioni violente. Gli aggressori materiali dei fatti furono molto spesso una cerchia ristretta che talvolta si indirizzò persino contro i suoi stessi membri, in un vero e proprio regime del terrore. Non furono infatti pochi i casi di albanesi che cercarono rifugio nei villaggi greci, questo per scappare alle brutalità delle frange più criminali. Nel settembre 1943, con la capitolazione dell'Italia e il passaggio di potere in Grecia alla Germania, limitati gruppi di militanti Ciam strinsero una controversa collaborazione con i tedeschi che non solo avrebbe macchiato la reputazione dell'interetnia, ma che all'epoca preoccupò anche i quartieri generali delle due principali organizzazioni di resistenza greche attive in Epiro. L'Elas, il braccio armato del partito di sinistra, cioè il fronte di liberazione nazionale, e il suo gruppo rivale, l'Edes, di orientamento conservatore e capitanato dall'ex colonnello Napoleon Zervas. In quanto gruppo di resistenza patriottico e con un'ideologia fortemente nazionalistica, Zervas inquadrò i Ciam come nemici del popolo greco. Visti come i responsabili del massacro di civili ellenici nella città di Paramitia nel 1943, insieme ai tedeschi in un'azione congiunta, i Ciam si ritrovarono coinvolti in una guerra che toccò il suo punto più basso nell'estate del 1944. Con l'avanzare delle truppe di Zervas dalle regioni costiere, i tedeschi si ritirarono dalla stessa città che, appena un anno prima, era stata la triste protagonista delle violenze degli invasori. La mattina del 27 giugno, le forze dell'Edes entrarono in una Paramitia scarsamente difesa dai pochi albanesi rimasti in città. I contadini greci, ritornati dopo un anno nella piazza centrale, presi dalla rabbia e determinati a vendicarsi per le sofferenze subite, persero totalmente il controllo. L'odio accumulato nei mesi alimentò le brutalità inflitte agli albanesi, che erano rimasti a Paramitia, in particolare sugli anziani, le donne e i bambini, tutti senza discriminazione. A subire le violenze furono per lo più civili indifesi. I Ciam armati che avevano preso parte alle guerrie con le armi, tra cui i fratelli Dino, Mazzara e Nuri, si erano già ritirati a nord. La popolazione albanese, che non riuscì a fuggire oltre i confine, venne perseguitata incessantemente. Le vittime tra i civili furono migliaia. Molti furono condotti nei campi di detenzione sorvegliati dalle forze dell'Edes, per essere poi deportati al di fuori della Grecia, alcuni nei Balcani settentrionali, altri in Turchia. Il massacro condotto dalle truppe di Zervas fu, come descritto dalla stampa estera, un'orgia di vendetta e bassezza umana. Lo stesso vescovo ortodosso di Paramitia, si racconta, si unì ai saccheggi nelle case, acconsentendo alle deportazioni di massa dalla regione. Le direttive date da Zervas e su uomini erano molto chiare. Per facilitare le operazioni di riconquista era necessario, prima di tutto, che la Ciamuria, o come i greci la chiamavano la Tesprosia, venisse evacuata da tutta quanta la popolazione albanese. I membri dell'Edes, per lo più i ranghi più bassi e indisciplinati, accecati dal rancore e dalla sete di vendetta, per quanto avvenuto durante gli anni di occupazione italiana e tedesca, si macchiarono di esecuzioni sommarie e stupri ai danni della minoranza Ciam, attuando una vera e propria pulizia etnica, come nel caso dei fatti avvenuti nella città di Conispol e di Filates, dove i prigionieri furono portati davanti alla corte marziale e condannati a morte il giorno successivo. L'episodio di Filates fu il primo di una triste sequenza di eventi di pulizia etnica nella storia moderna dei Balcani. Il genocidio in Ciamuria fu poi tollerato dalle truppe inglesi, le quali erano a conoscenza dei piani di Zervas, ma essendo più interessate al controllo strategico della costa e pirota, chiusero volutamente un occhio. Espulsi dalla loro terra d'origine e impossibilitati a rientrarvi, i Ciam si trovarono a vivere in un limbo di incertezze politiche, senza cittadinanza greca a partire dal 1947, visti con sospetto dalla popolazione albanese del nord e discriminati completamente da quella ellenica. Nell'arco di pochi giorni, le campagne della Ciamuria erano state totalmente svuotate di quella popolazione albanese che prima, per secoli in maggioranza, vi aveva abitato. Si trattava circa di 22-25 mila persone, alle quali fu assegnato lo status di rifugiati politici. Stando alle stime più recenti, i civili vittime delle purghe di Zervas in Ciamuria ammontarono tra i 2.000 e gli 8.000 individui, un fatto paragonato da molti commentatori al genocidio dei musulmani bosniaci a Srebrenica nel 1995. Finita la guerra, la questione dei Ciam non ebbe mai una vera e propria conclusione, seppure le due nazioni l'avessero forzatamente cristallizzata. La corte di giustizia di Ioannina nel 1945, con il decreto 344 del 23 maggio, condannò a morte in massa e in qualità di criminali di guerra quasi 2.000 Ciam che erano ancora rimasti dentro i confini ellenici. Nella stessa Albania comunista, fino all'85, la minoranza subì oltre al danno anche la beffa, da parte stavolta del regime di Enver Ocha. Etichettati indiscriminatamente dal primo all'ultimo come collaborazionisti e criminali di guerra, di cui non ci si poteva assolutamente fidare, molti albanesi Ciam furono incarcerati o dislocati nelle regioni più a nord. Con l'accusa di cospirazioni contro il regime, come spie al soldo di separatisti americani, jugoslavia e greci, le politiche di Ocha mirarono essenzialmente in due direttive, alla persecuzione indiscriminata e all'assimilazione passiva di questa minoranza. Ancora oggi la questione dei Ciam è aperta e risolta. Molti dei sopravvissuti dell'epoca non hanno ancora potuto rimettere piede in Ciamuria, o lo hanno fatto soltanto recentemente, mentre allo stesso tempo, tuttora da parte di alcune autorità elleniche di frontiera, il comportamento degli ufficiali di polizia locali ha spesso dimostrato una certa ostilità, come dire, un certo pregiudizio discriminatorio nei confronti dei trasfrontalieri di etnia albanese. Queste inquietanti contraddizioni sono tutte figlie di una storia di persecuzioni pianificate, di cui a farne le spese nel XX secolo sono stati purtroppo migliaia di civili, tanto Ciam quanto Greci. Considerata sempre come un corpo estraneo dalle autorità, la minoranza Ciam censurata e omessa sia nella storiografia greca, che ha sempre negato l'esistenza di una minoranza albanofona nella prefettura di Tesprosia, tanto quanto quella albanese di epoca comunista, fu condannata dal governo greco negli anni 50, con dichiarazioni nel 1953 che esaltavano in salsa nazionalistica gli atti di Napoleon Servas, giudicato come liberatore del popolo ellenico. Come sempre ragazzi vi ringrazio per avermi ascoltato fino alla fine, probabilmente questo video sarà demonetizzato per le sue tematiche spinose e controverse, e a maggior ragione io voglio dimostrare la mia riconoscenza verso i micenati che mi stanno supportando oggigiorno su Patreon per realizzare questi mini documentari. Un grazie enorme anche ad Alessandro e a Yuzil Mekai, perdonami se utilizzo il tuo nick di Instagram ma non trovavo il tuo nome, che si sono offerti per contribuire ai sottotitoli in inglese e albanese. Ci vediamo come sempre presto in un prossimo video, per Aspera ad Astra.